Con questa domenica ci giunge al termine del percorso qualifinale. Siamo a pochi giorni dalla settimana canta e dal frigo. La liturgia odierna ci propone il Vangelo di Giovanni che ci riporta gli ultimi giorni precedenti la passione e la morte. Direttamente da quello che sia il solito benitare o credere, il Cristo nei signori non è morte, non è sofferenza, è l'esatto posto. La fede in Cristo è gioia, entusiasmo, donazione di sé e pienezza di vita. Il chico germoglierà nel grano, si è trasformato in vita, ha dato frutto. Questa è la croce e abbiamo il coraggio di chiamarla morte. Se così fosse avremmo capito davvero poco della nostra fede cristiana. Il nostro non è un dio della morte, è il dio della vita che accetta la croce non come sensità, ma come giornoglio e speranza di vita. È difficile da capire? Risponderò a questa domanda lasciando richiamare le parole di un grande teologo, Buonè Ferro. La croce è stata data non per capirla, ma perché c'è la pazzi modessa. La fede cristiana così la proclama, fin dal VI secolo, ave o cruz, festa unica, salve o croce, unica speranza. E allora siamo chiamati a seguire Cristo, a camminare al suo bianco, verso la risurrezione. E allora siamo chiamati a seguire Cristo, a camminare al suo bianco,